3% e quindi andiamo subito in game, nel primo game di questa serie siamo nel round of 16 per l'Inter XT Master World Championship su Italian E-Sport Association Urkukan, andiamo a presentare anche i giocatori partendo dal Protos che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso attualmente per il Team Evil Genius stiamo parlando di HAK il suo avversario nell'angolo in basso a destra con il colore blu per il Team Liquid stiamo parlando di MANA 22 anni per MANA, 26 per HAK, leggera differenza di età, il giocatore HAK tra l'altro come dicevo viene in sostituzione per la rinuncia di Petreus che non ha potuto partecipare insomma a questo EM World Championship quindi probabilmente HAK non si era preparato molto bene ma vedremo come si comporterà in ogni caso non si era preparato bene insomma nel senso non era uno dei candidati primi per partecipare e comunque ha vinto HAK nel primo turno del round of 32 contro PIG per 3 a 0 tra l'altro è un PWZ, intanto viene chiesta una pausa da parte di HAK MANA si momento di riflessione per i giocatori pausa da parte di HAK, non so per quale motivo MANA mantiene ancora controllo su si riscalda ancora le dita dicevo mentre HAK chiede un aiuto probabilmente ha dimenticato qualche cosa vediamo se riprenderemo velocemente con il game MANA se la ridacchia sotto i baffi mentre HAK sta prendendo tempo ridacchia HAK, ridono tutti praticamente e riprende il game riprende il game risale da tutti naturalmente vediamo l'opening dei due giocatori MANA doppio assimilatore quindi molto probabilmente tenterà di riasciare mentre il suo avversario doppio gate expand due gate EXP per lui con il centro ibernetico sta bancando i minerali quasi arrivato a 400 per prendere appunto l'EXP dall'altra parte HAK si sta spostando in avanti è andato a scautare il wall di chiusura sulla neutral quindi sa che il suo avversario vuole andare di espansione cercherà appunto di prenderlo in contropiede con questo doppio gate molto aggressivo al momento vedremo se ci sarà qualche altra struttura per il momento da parte di HAK non vedo nient'altro in coda di produzione infatti lo stargate proxy stargate no stargate nella base nella sua stessa base da parte di HAK quindi però un proxy gate sicuramente un proxy pilone proxato l'ha piazzato quindi non vede niente MANA in questo momento vede i persecutori sulla rampa ma credo che si sia wallato completamente infatti si walla completamente MANA per difendersi doppio pilone in prossimità del gate per cercare il sovraccarico fotonico a questo punto è MANA invece di attivare il sovraccarico fotonico con un ottimo force field il focus su il secondo pilone perde uno dei primi due persecutori HAK ora potrebbe andare di sovraccarico fotonico infatti subito attacca il gate scusate di MANA con altri due persecutori che si uniscono con un terzo persecutore il primo punto è stato distrutto ancora sul gate da parte di HAK molto gridi con questo attacco il giocatore un rush praticamente in piena regola il giocatore protos canadese del team Evil Genius intanto arriva un adepta il dash per entrare nella base avversaria prima del piazzamento del nuovo gate e riesce a passare adepta inizia a fare danni sulle patch minerarie per il momento MANA non sembra molto impensierito infatti HAK è andato a prendere anche la sua espansione quindi ha capito che questo rush non lo porterà alla vittoria sta ancora cercando di fare danni ancora un buon force field il sovraccarico fotonico da parte di MANA incredibile la giocata blocca entrambi i persecutori di HAK ma arriva l'oracolo a questo punto e non ha difese sulla base principale subito l'oracolo inizia a lavorare sulle probe ottima da parte di HAK la risposta in questo caso per cercare di limitare la macro di MANA persi 5 lavoratori per HAK per MANA scusate 31 lo psi per MANA 42 per HAK che nel complesso ha distrutto 9 probe del suo avversario e si è portato decisamente in avanti in questo early game con un rush un pylon rush con doppio gate molto molto aggressivo ancora l'oracolo di HAK che va principalmente a scautare sulle pacce minerarie non credo possa fare molti altri danni MANA è pronto a rispondere con persecutori su entrambe le basi e vediamo l'incam in svantaggio per MANA 31 probe per HAK contro le 22 di MANA probe transfer in questo momento per il giocatore del team Evil Genius ancora in avanti con l'oracolo cerca di sfruttarlo al massimo prima forse di perderlo infatti perde l'oracolo ma altre 3 probe distrutte a MANA 15 in totale le probe perse da MANA in questo early game ricordo che siamo ancora al primo game del round of 16 del round dei 16 migliori giocatori e intanto vediamo per MANA arriva il primo dimensionale quindi molto probabilmente vorrà rispondere al suo avversario con un'altra giocata con una giocata su due basi mentre HAK mette in costruzione il concilio il crepuscolo potrebbe essere la base per una giocata con Blink Stalker perché non vedo la produzione di Phoenix al momento per il giocatore del team Evil Genius quindi molto probabilmente vorrà concentrarsi su Gate Unit quindi immagino Blink Stalker e arriva anche il concilio il crepuscolo anche per MANA quindi entrambi stanno andando molto probabilmente con la stessa giocata di Blink Stalker vedremo a quel punto come andrà subito il Blink in ricerca per HAK mentre arriva la seconda espansione per il giocatore del team Evil Genius lo scout di HAK con una allucinazione nella base di MANA e il prisma dimensionale stiamo vedendo probabilmente andrà a droppare in un angolo morto della base di HAK invece NO va direttamente a droppare in prossimità delle patch minerarie vediamo se aprirà il prisma dimensionale NO decide di mantenersi ancora in guardingo con la possibilità di scappare velocemente senza ingaggiare riesce a distruggere comunque un pilone MANA e disattiva due gate di HAK mentre entrambi come dicevo vanno di Blink Stalker quindi persecutori con traslazione tradotto in italiano per chi fosse affisionados alla lingua italiana più che il... anche se traslazione non si può sentire comunque ancora vediamo MANA in avanti con il prisma dimensionale cercherà di trovare un punto d'ingresso non si è ancora accorto della seconda espansione di HAK MANA ancora su due basi su due Nexus ma ha pareggiato i conti per quanto riguarda le probe 41 per HAK 40 per MANA che però attiva con un probe transfer la sua seconda espansione e e vediamo HAK mantiene una... la visione su una possibile seconda espansione di MANA mentre arriva la forge altri due gate per MANA ancora scout da parte di entrambi i giocatori prima MANA poi successivamente HAK centromappa con un'allucinazione vediamo dicevo la stessa build infatti entrambi stanno andando di blink stalker e iniziano la produzione anche di immortali ovviamente per cercare di counterare i persecutori avversari 45 probe per MANA 43 per HAK si accorge in questo momento del pilone HAK ma arriva un ingaggio blink aggressivo da parte di HAK e subito il focus sui persecutori e poi arrivano gli immortali per coprire la riterata dei persecutori HAK ottima la giocata ancora un attacco su un focus sugli immortali di MANA che rimane con un immortale 5 persecutori aggressivissimo HAK e vince il primo game HAK stupendo anche il sottoscritto 1 a 0 per HAK Dio iniziano con un'allucinazione vediamo in ultimo 1 a 0 per HAK